Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un nuovo simulatore, Mech Mechanic Simulator. E il titolo uscirà su Steam a breve, io adesso lo sto provando giorni prima che precedono l'uscita. Il gioco non è in italiano, ma essendo distribuito dalla Playway diciamo che non ho grosse preoccupazioni e credo verrà tradotto in italiano, così come è stato per tutti gli altri Mech Mechanic Simulator. Però vedremo. Nel caso in cui dovesse uscire il giorno dell'uscita pubblicherò nel tab community del canale la notizia che il gioco è in italiano insomma, o comunque lo segnalerò magari se pubblicherò il video dopo l'uscita del gioco insomma, però calcolate che c'è una buona possibilità. Qua si parla di riparare, costruire, colorare dei Mech. Quindi stiamo parlando della più fantascienza pura possibile, insomma. Iniziamo. Iniziamo e vediamo. Ogni lavoro è mandato da una corporazione, completando i lavori per una corporazione ti viene assegnato un certo numero di punti di reputazione. Più punti di reputazione hai, più alto è il tuo prestigio. Ci saranno delle corporazioni, immagino, perché in Mech si pensa a qualcosa comunque di guerra. Finalmente sei qui, i tuoi competitor non sono stati fortunati come te e sono ancora seduti nelle loro fosse, nelle loro buche. Muoviti con Vazd. Va bene. Ok, interagire con il tasto sinistro del mouse. Intanto graficamente siamo a livello ultra, ma diciamo che ultra non non è. Però vedremo. Sai quanto duro sia trovare questo posto? I meccanici non registrati sono perseguiti dalle autorità. Finché operi nell'area grigia sarai partner con me nel crimine, insomma. Stai attento, ok? Potresti sentirti un pochino perso all'inizio, perché questo luogo di lavoro è abbastanza grande della buca dove tu mi hai costruito. Ma perché siamo partiti in quelle buche lì? Boh, una sorta di prigione, non lo so. Comunque dove è andato il nostro socio che adesso ci deve introdurre. Mi ricorda un po' anche quel simulatore di Rover, Rover Mechanic Simulator, perché comunque quelle risorse in alto, una fabbrica fatta così moderna, lì è ambientata su Marte, qua. Invece siamo in un futuro molto molto remoto. Hai bisogno di prendere una licenza ufficiale il prima possibile senza la quale rischi... no, senza la quale comunque non rischi che qualcuno ti dia un lavoro più in alto di quello che tu puoi fare, effettivamente. Perfetto. Questa è un pc e avrai accesso alle offerte di lavoro. Presumo che tu sia già stato in un'officina, ma sono qui per aiutarti nel caso in cui tu ti sentissi perso, se voglio continuare il tutorial, da qua si può accettare un lavoro. Vediamo un po'. Qui puoi vedere la lista di tutti i lavori disponibili. Con il tempo abbastanza lavoro dovresti vederne sempre di più. Abbiamo la Sakura Technology, un lavoro pagato 9800 dollari. Questo pannello ti fa vedere i dettagli dell'offerta selezionata. Vedrai quale corporazione sta cercando di assumerti e il modello del Mac, quindi del meccanica, robot, la descrizione del lavoro e che compito tu devi completare. Accetta il lavoro quando sei pronto. Perfetto. Riparare la parte, ma non sappiamo quali. Ovviamente qua parliamo di Mac, quindi non è che parliamo di un motore dove uno ti può dire, no, devi smontare lì. Qua è una figata il fatto che abbiamo dei Mac, non li conosciamo, impareremo a conoscerli e quindi potremo pavoneggiarci con i nostri amici quando proveranno il gioco e ti diranno, ma non riesco a capire, no, guarda, è la gamba, devi svitare da lì, no, ma che lavoro fai? E' una roba del genere. Andiamo alla stazione di assemblaggio e vediamo che cosa c'è di sbagliato con il nostro paziente. Andiamo. Io vi dico la verità, non si può saltare, quindi non vuole saltare giù, non si può saltare giù. Salve. Vi dico la verità, mi sto trovando sempre più a mio agio con le scritte in inglese, quindi i videogiochi ogni tanto fanno anche miracoli, per quanto ogni tanto abbia ancora delle difficoltà. Abbiamo bisogno di trovare qual è la zona danneggiata nel Mac. Per far questo useremo questa stazione, ma prima abbiamo bisogno di pulire il Mac da tutta la polvere e dal fango. E quindi? Cleaning. Allora, entra in Cleaning Mode premendo il Cleaning Button. Ok. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, ah, indirizzarà il getto d'acqua. Figata. E sotto c'è una barra che ci dice quanto manca ha la pulizia completa, così dirigiamo un pochino il getto. Molto bene. Cleaning è completato. Ah, possiamo acquistare il fuel? No, direi che abbiamo fatto. Allora, andiamo allo scanning. Prima che lo scanner si accenda, avrai bisogno di aggiustare per ogni Mac su cui stiamo lavorando. Dovrai, diciamo, posizionarlo, aggiustarlo, configurarlo per ogni Mac su cui noi stiamo lavorando in officina. Per sistemare lo scanner bisogna aumentare o diminuire la fase e l'amplitudine, insomma, l'ampiezza delle onde dello scanner e selezionarle facendole combaciare, diciamo, con quelle sopra. Quando hai fatto, ok, troveremo la zona danneggiata. Quindi? Che devo fare? Devo modificare questo? Ok, diciamo che così più o meno ci siamo. La zona rossa, no? La fase. Vediamo un po'. Sì, non dovrebbe essere... Uh, ce l'avevamo fatta, quasi. Ok, ce l'avevamo fatta. Ok, il Mac viene scansionato? E' una figata, eh. Farlo in live non sarebbe male. Perché ho visto anche delle zone di... parti di gioco anche di combattimento, però lo stiamo esplorando insieme. Ora io tento, in quei giochi non eccessivamente complessi come possono essere questo, di fare una blind run, insomma, e provarlo insieme a voi. Altri giochi un po' più complessi me li provo un pochino prima. Scansionando il Mac abbiamo trovato come sistemarlo e come finire il lavoro. Per aprire la lista di compiti che hai bisogno di completare, premio Tab, ritorna all'Assembly Screen. Ok. Scandine completo. Ah, ok. Ripara la parte Legacy CA 010301. E che cacchia, ne so io dov'è. Vabbè, qua c'è un piccolo problema. Ok. Questo pannello ti fa selezionare quale... tutti i moduli del Mac che vuoi muovere al tavolo da lavoro. I moduli sono evidenziati in rosso, quello che hai trovato danneggiato in pratica. Premi sul modulo rotto e seleziona in quale Workbench muoverlo. Il braccio destro è danneggiato, il modulo è lì, quindi lo muoviamo lì. Hai bisogno di staccare alcune parti che bloccano il modulo. Punta il cursore sulle parti bloccate e rimuovi le tenendo prima tutto il tasto sinistro del mouse. Ricorda che puoi solo staccare le parti che sono evidenziate in verde. Come Carmica nei simulettro, in sintesi. Queste diventano rosse perché sono bloccate da altre. Ok. Quindi questo lo dobbiamo staccare. Ah, questo si stacca così. Qua dobbiamo svitare le viti. Questa parte sono tenuta insieme da viti. Ha bisogno di rimuoverle, certo. Devo puntarla, vite lì e le due viti qua. Sì, siamo nella fantascienza pure, ma ci vuole una gran fantasia per fare un gioco del genere. Dove pensare di smontare qualcosa. Ah, ma proprio così, senza cuscinetti, senza nulla, vabbè. Vabbè, braccio destro. Niente, credo che dobbiamo andare adesso. Sì, andiamo al tavolo da lavoro. Ah, ok. 1 e 2. Ok, noi l'abbiamo messo sul tavolo 1. Ora possiamo lavorare. Abbiamo la parte lì che è tenuta su, ma va bene. Usando i testi di movimento puoi liberamente ruotare la camera intorno al mobile. Usando il cursore puoi selezionare tutte le parti che ti interessano. Anche le parti danneggiate sono sempre visibili. Ok, ok. Ok. Usa Q&A per passare liberamente tra la modalità di montaggio e smontaggio. Come in questa stazione di assemblaggio, usa il cursore per vedere quali parti hanno bisogno di essere staccate prima e per raggiungere appunto le parti. Ok. Ah, smonta e rimonta. Ok. Mi lasci giocare però. Puntando una parte ti permetterà di vedere alcune informazioni base di essa. Dal nostro punto di vista il dettaglio più importante è lo status della parte. Le parti possono essere di buona qualità danneggiate completamente rotte. Saremo in grado di sistemare le parti danneggiate nella Repair Station. Una volta che la raggiungiamo. Le parti che sono completamente rotte non possono essere sistemate e non bisogna essere sostituite. Puoi staccare solo le parti che non sono bloccate da altre parti. Sì, ma lo so. Ma certo. Scusa. Allora, la parte danneggiata è lì. Dobbiamo capire come smontarlo. Allora, bisogna smontare prima questo. Le parti del Mac sono divise in molte categorie. Staccando una parte... Ah, staccando una parte sarà diversa per ogni categoria. Dopo aver staccato una parte... Per dare l'esplicazione del movimento. Va bene, fammi vedere. Ah, ok. Sì. Tutto per dire questo. Esattamente così. Ok. Quindi dobbiamo staccare questo. Ah, devo girarlo su. Ma va. Cioè, non ho giunto questa roba qui dove devo dare una direzione. Cioè, praticamente devo staccarlo di là. Ma non mi dire. Ah, ok. Mi sono dovuto proprio mettere in una... Eh, doveva raggiungere quello. Quindi... Su. Ok, ecco le... No, dov'è che sono le parti rotte qui? Mannaggia. Ma devo smontare tutto il modulo. Come lo chiama? Legacy... Ah, ok. Sono chiamate proprio con i... Con i nomi tecnici. Vabbè. Vanno tutte in castro queste. E quindi? Posso smontare qualcosa qua? No. Devo smontare questa roba qui, ma... Ok. Svita lì. Svita qui. Tira su. Ok. Stacca questo. Quattro viti. Punta. Una. Due. Tre. Quattro. E smonta questa. Perfetto. Ora. La parte è lì dietro. Quindi dobbiamo staccare questo. No. Mannaggia. Ho mancato. Perfetto. Mamma mia che casino. Cioè. Legacy 010301. Era questa la parte rotta. Ma... Che cacchio devo fare io qua? Devo staccare questi? Che sono dei cavi. Tra l'altro. Mi dà anche lo status. Ok. Ma... Scusa. Tac. Tira su. Ok. Ho riuscito a toglierlo. Vediamo. Stacchiamo anche questa. Sì. Ma tutto dobbiamo smontare. Cioè. Non... Volevo solo togliere questo. Non voglio smontare tutta la gamba. Mannaggia. Devo togliere sta carina qua. E accedere a quello. Cioè. Non voglio smontare cose che non servono. Ok. Fammi smontare questo. Giù. Giù. Ok. Eh. Sembra che ora possiamo rimuovere la... Fonte del problema. Vai avanti. Ok. Stacca. Cioè. È rotta. Si. Stacca lassù. Non capisco perché non me la stacchi. Perché non me la stacchi? Ah. Devo fare il doppio movimento. Ok. A questo punto... Ehm. Non hai l'hardware necessario per sistemare questa parte. Ma. Eh. Quando hai preso una licenza sei in grado di andare nella... Stazione di acquisto. Il sistema. Ok. Enter the attaching mode. Per ora... Ah. Dovrai sostituirla. Ok. Andiamo in attaching mode. In questa modalità tutte le parti possono essere sostituite. Che potranno essere sostituite. Diventeranno... Insomma. Lampeggianti. Clicca... Ok. Quindi devo cliccare qui. Come probabilmente avrai già notato puoi accedere al tuo inventario da questa stazione. L'inventario è già filtrato e mostrerà solo le parti che andranno posizionate in quello slot. Eh. Non hai niente con cui... Ok. Seleziona cerca in shop. Ah. Ok. Questa è una cosa che in car mechanic non c'è. Ne acquisto uno nuovo che costa 1800 dollari. Il bottone... Ok. Sì. Va bene. Acquista la parte mancante. Questa. Eh. Sulla parte destra potrai vedere quanti. Ne acquisto uno. Quanti ero quest'anno. Ok. Ora hai la parte. Puoi rimontarla. Ci sono due parti nell'inventario in lista ora. La vecchia e la nuova. Sì. Va bene. Io voglio montare la nuova. Sembra che il problema sia stato risolto. Ora hai bisogno di riassemblare l'intero modulo. Fammi sapere quando hai fatto. Rimontiamo tutto. Sì. Questa è una figata. Perché. Si rimontano istantaneamente senza movimenti strani. Però. Me li fa montare. Mi sto rimontando tutte le parti che comunque non erano eccessivamente usurate. Questa forse mi lasciava comprare. Vedete. Potete fare search in shop. E rimontarla. Ma sono tutte messe comunque piuttosto bene. Quindi. Abbiamo finito. No. Manca tutta la cover qui. I tubi. E fissa cavi. Che spettacolo. Monta anche questo. No. Scherzavo. Monta questo che hai. Non è che dovresti andare a cambiargli tutto. Metti le viti. Una. Due. Tre. Il metodo. Diciamo che da più soddisfazione nell'avvitare. Viti. E quello trovato su. Ranch. A mani. Bassissime. Quando. Riessembli il mac. Accertati che tutte le parti siano al loro posto. Ritornando un mac con parti mancanti. Ci sarà qualcosa che. Non. Cioè. Manca qualcosa. E qualcosa che l'impiegato non apprezzerà. Ehm. Non dovrai divenire. Ok. Ok. Ora dobbiamo tornare indietro alla. Alla. Stazione di assemblaggio. E dobbiamo rimontare il modulo. Quindi. Tech. Assembli. Hai bisogno di. Ok. Select. Ok. Ora prendi il modulo. Ok. E lo riattacchiamo. Lo dobbiamo rimontare. Uno. Due. Ne avvitiamo anche senza girarci. Quando hai finito tutti gli obiettivi del tuo lavoro. Sarà in grado di tornare indietro. Ok. Per tornare al lavoro. Non dimenticare di raccogliere la ricompensa. Ok. Quindi abbiamo finito. Sì. Credo che abbiamo finito. Quindi dobbiamo andare di sopra di nuovo. Eh. Sarà un gioco da esplorare tanto questo. Perché. Secondo me è molto interessante. E vedete che anche in inglese non è che ci sia molto da. Da star lì. Ok. Allora. A dire. Insomma. Non capisco. Cioè. Al fine è comprensibilissimo. L'ho letto abbastanza tranquillamente. Questo schermo dimostra. Il lavoro. Alcuni dei lavori potrebbero richiedere degli obiettivi aggiuntivi. Eh. Non sono obbligatori. Ma ti aumenteranno il premio. Insomma. Finish. Job. Ok. Abbiamo finito. E il Mac viene portato via. Carino. Ci hanno pagato 9.800. Abbiamo speso forse 1.800 per il lavoro. Ci abbiamo messo circa 12 minuti. Dopo aver finito un lavoro c'è un piccolo sommario diciamo di quello che avete fatto. Quello che hai guadagnato o perso. è utile nei lavori più complicati. Questo. Puoi entrare nel negozio in ogni momento. Premi I. Per entrare nel negozio. Quindi premiamo I. E vediamo un po'. Buy. Sell. Ci sono anche i prestiti. Puoi acquistare e vendere parti. Controlla sempre il prezzo della parte prima di acquistare. Il market è veramente instabile. E i prezzi cambiano molto. Fortunatamente il prezzo attuale è mostrato vicino all'item. Ok. Alla sia in aumento o meno. Ok. Qua abbiamo la possibilità di prendere in prestito dei soldi. Aumentando la reputazione ti si possono prendere numerose porte. Abbiamo provato che siamo degni di fiducia e ora possiamo prendere prestiti. Chiedere prestiti. Questo schermo ti farà prendere dei prestiti e specificare i termini di restituzione. Quindi possiamo settare se vogliamo una restituzione del prestito veloce o lenta. Infatti qua è lenta 4.500 indietro e il pagamento veloce viene tolto da ogni lavoro. In pratica è comodo questo. Abbiamo anche due parti che non riusciremo a vedere che sono quelle del software e quello del black market. Questo è il negozio. Ora ragazzi io sospendo qua perché salverò la partita. E vi chiederò se... No, non si può saltare. Mi ha fatto un saltino e mi sono illuso. Ma non può saltare. Fai un facepalm. Questa è la... La vita di... Da qualche secolo probabilmente. E... Niente, dicevo. Ora vi ho fatto vedere così grandi linee quello che è questo titolo. Ovviamente ora che avete visto il video vi siete anche spulciati la pagina di Steam. Se volete vedere di più, volete che io vada avanti, fatemelo sapere nei commenti. E ci faremo una live una sera di queste. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.